bravi bravi rugani positivo e la partita si doveva giocare adesso chiedete scusa a zang che ha dato del pagliaccio ad alpino perché non si preoccupava della salute dei giocatori della serie a dei giocatori di tutte le squadre della serie a dei propri familiari dell'italia intera bravi bravi adesso chiedete scusa a mister zang pagliaccio e pagliacci la lega chieda scusa e ritiri la querela ai danni di steven zang bravi adesso non voglio fare polemica rugani ammalato cagate varie però ennesima dimostrazione che siete dei pagliacci non posso utilizzare altri termini altrimenti mi chiudono il canale la juve continua ad essere la vergogna d'italia ok noi possiamo essere la barzelletta sul campo ma voi siete la barzelletta dal punto di vista umano dal punto di vista legale dal punto di vista da tutti i punti di vista tranne quello sportivo perché giustamente vincete bravi adesso chiedete scusa mister zang non sto facendo il video con la mascherina per fare il pagliaccio come voi ma devo andare a lavorare nel rispetto delle leggi anzi oltre perché nessuno mi impone di tenere la mascherina ma ragazzi facciamo uno sforzo parliamo sempre di regimi dittatoriali siamo in semi dittatura quindi quello che volevo dire in questo video flash che siete dei pagliacci gobbi pagliacci adesso chiedete scusa a mister zang perché lui vive viveva in prima linea con la propria famiglia in cina visto che cinese fate sapete solo fare ironia intellisti pendenti è lui che veramente stava vivendo prima di tutti ok il dramma in cina ha voluto mandare un messaggio nessuno l'ha saputo cogliere e adesso godo godo primo caso di coronavirus un gobbo bastardo stop poi auguriamo guarigione a rugani che per adesso sta bene abbiamo dovuto giocare per forza perché loro dovevano arrivare alla stessa dire la verità pure io avevo voglia di vedere la partita ok però loro avevano il bisogno di superare la lazio quindi si è dovuto giocare per forza e adesso questo scudetto che la juve merita perché ha più punti degli altri spero non venga assegnato se viene assegnato se lo merito ma umanamente moralmente come da 120 anni ed oltre a questa parte no passo e chiudo chiedete scusa zang mutismo avevamo ragione noi e voi a pecoroni iscrivetevi mettete like se siete d'accordo con me attivate la campanella farò pochi video questi giorni perché non si parla di calcio ma sarà se ci sarà sempre un video appena passerà tutto di insulto in primis per il mila per il napoli e poi per la juve ciao ragazzi avanti mister zang e voi a pecoroni